Domenica 22 aprile alle 21, Serena Dandini presenta Earth Day 2012, la giornata della Terra, in diretta su repubblica.it. Con Angoon, Enrico Ruggeri, i Sud Sound System e tanti altri artisti del progetto Rezophonic, capitanati da Mario Riso. Musica, spettacolo, idee. Un grande show per la Terra. Ti aspettiamo domenica su repubblica.it.